Ben trovati su Dealflower con il nostro appuntamento Startup Corner, siamo oggi in compagnia di Dario Cardile, CEO di Kaja. Anzitutto benvenuto e ti chiederei subito un po' come è nato il vostro progetto, quindi la vostra startup e quali sono un po' i vostri obiettivi, quindi raccontaci un po' la storia. Assolutamente, grazie per averci con noi oggi. Allora Kaja nasce da una verità, da una esigenza nata a noi dei founder, del mio socio Paolo, che praticamente abbiamo riscontrato attraverso diversi traslochi, diverse compravendite, la complessità in Italia di comprare un immobile. Ci sono troppi attori, c'è poca trasparenza, le offerte non sono chiare, i tempi sono molto lunghi, i prezzi non sono chiari. Da una serie di esperienze personali che abbiamo vissuto, io cambiamo 18 case per dare un'idea, quindi le ho vissute tutte in questo frangente, ci siamo resi conto che nasce un'opportunità oggi in Italia, una compravente immobiliare più trasparente, più sicura, più veloce e soprattutto semplificando il processo si può dare al cliente un'esperienza diversa. Quindi abbiamo fatto diverse analisi, vediamo dell'esperienza anche in America negli ultimi 3-4 anni e abbiamo vissuto in America dei grossi player, alti source, OBSU in US, che gestivano proprio questi immobili tramite aste tra privati. Il mercato è esploso in America e come sempre noi vediamo in Italia un po' il riflesso di quello che avviene, quindi abbiamo visto la crescita dei volumi, in particolare in US e abbiamo deciso di tornare in Italia e fondare appunto cash. Quindi nasce un po' dalla nostra esigenza primaria di semplificare il mercato e di rendere sul mercato un po' più fluido. Dall'altra parte nasce un po' dall'opportunità oggi che c'è nel PropTech in Italia, quindi noi come obiettivi proprio ci prefissiamo quello di proprio semplificare il processo, rendere accessibile a tutti l'immobile e renderlo trasparente e sicuro. Appunto siamo nell'ambito del PropTech, nel dettaglio quindi che tipo di tecnologia offrite e a chi vi rivolgete, quindi quali sono i vostri interlocutori. Certo, noi parliamo in verità con diversi attori, appunto nella filiera cerchiamo di metterli insieme in maniera grande da questo processo trasparente, veloce e sicuro. Quindi rivolgiamo sia ai venditori istituzionali, banche, assicurazioni che hanno immobili o sviluppatori immobiliari, per cui diamo a loro la possibilità di mettere in vendita i propri immobili. Parliamo con anche i privati che vogliono farlo, ma in realtà su una fascia molto più piccola. Parliamo con agenti immobiliari ovviamente che vogliono adottare una tecnologia innovativa che oggi non hanno a disposizione. Quindi mettiamo a disposizione tutto il processo digitale che va sia dalla pubblicazione dell'immobile fino al compromesso, all'offerta di acquisto. Oggi purtroppo non si rogita, non può essere completato online, quindi noi ci adeguiamo a quella che era la normativa, arriviamo fin lì. Tutto il percorso dell'utente è supportato dal digitale, quindi sia la visita, che può essere virtuale, da remoto o fisica, sia anche la stesura del compromesso. Sia la descrizione del tempo di appuntamenti, oggi in Italia è impossibile se tu vuoi prenotare una visita di un immobile, chiami l'agenzia e l'agenzia ti richiama dopo due o tre giorni organizzate l'appuntamento. Nel nostro contesto invece è rapido, prenoti direttamente online. Quindi la tecnologia per noi è un fattore abilitante di un processo di semplificazione, cioè non è il nostro obiettivo aziendale, ma è più che altro il canale attraverso cui rendiamo questo processo più fluido. Quindi parliamo anche con gli agenti immobiliari che appunto utilizzano tutta la nostra tecnologia e tutto il nostro processo per dare un servizio migliore al cliente, anche perché come sai in tutti i settori il digitale sta aiutando a avvicinare il cliente, non allontanarlo. Lo avvicini al senso che lo ascolti di più, comprendi quello che ha bisogno e riesci a dare un servizio migliore. Quindi in un certo senso vi basate sui dati? Assolutamente, quindi noi facciamo un'analisi di dati abbastanza sofisticata, sia al momento in cui prendiamo l'immobile in carica, quindi la valutazione dell'immobile, sia al momento in cui cerchiamo degli acquirenti per quel tipo di immobile. Ovviamente abbiamo anche esperienza nel travel, nel fintech, quindi abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze su grandi volumi di dati che ci rendono anche più comfortable oggi a rendere questo servizio un po' più mirato. Se tu pensi alle agenzie di travel dieci anni fa, quindici anni fa, no. Oggi purtroppo sono scomparse, oggi non auguro alla legge di immobiliare di non scomparire, assolutamente, sono colleghi, ecco, assolutamente, e vogliamo lavorare con loro, però devono fare uno step change, quindi devono digitalizzarsi. Secondo te quale tecnologie saranno più disruptive nel mercato Proptech italiano nei prossimi anni? Sicuramente la blockchain. Noi abbiamo avviato già il progetto, tutta la nostra infrastruttura tecnologica si baserà brevissimo sulla blockchain. Questo vuol dire che tutta la documentazione dell'immobile, che noi pubblichiamo subito, quando viene messo online, viene tracciata sulla blockchain. Quindi non ti posso dire domani che la planimetria aveva tre camere, invece ne aveva due. Deve essere tracciato e modificabile. I compromessi, tutte le offerte sono tutte a tracciare la blockchain, noi peraltro siamo controllati dalla questura, perché siamo abbanditore d'aste come tale, dobbiamo avere il tracciamento di tutto, quindi la blockchain sicuramente dà quella sicurezza, dà quella solidità di informazione e quella democratizzazione dell'informazione. Quindi sicuramente questo è il primo. Probabilmente si chiedono già i primi segnali anche quelle sono sulle cryptocurrency per real estate, sia perché chiaramente i capitali sono ingenti ormai su queste piattaforme, sia perché la fluida del denaro è molto più veloce, quindi c'è la possibilità veramente di accedere compravendite anche in cripto. Ci sono stati alcuni primi test all'estero, non in Italia, secondo me arriveranno a breve anche in Italia, quindi questo è due di sicuro. I dati ormai li do per scontato, cioè li do per noi ormai sono il pane quotidiano, quindi non è un trend futuro, non è una necessità di oggi. Grazie mille a Dario Cardile, ricordo il CEO di casa per essere stato con noi su The Flower. Grazie Alessio. Grazie a tutti.